Il segreto Ora ti spiego Ma che vuoi spiegare? Questo ha scritto C'ho voglia di scopare Tante volte puoi essere il T9 Che cazzo dici da te? Diretta a me Sei troppo innamorato di mamma Per capire quanta stronza Le ho trovato un pacchetto Di preservativi nella borsa Oddio se capitasse a Rosa Amore Rosa compie sei anni a giugno Io non so mica Se sarei una brava mamma Ma perché sei incinta? Oh allora la vostra Non c'è ancora niente da brindare C'è il fatto che qualcuno scopa Questi cosi Ci stanno rovinando l'esistenza Ci stanno portando via il privato Io sei un amante Non lo voglio sapere Parla parla Sono i tuoi migliori amici Magari anche loro vogliono sapere no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken Tu tutte le fatte E io senza parole Dalli quel telefono Dalli quel cazzo di telefono! Gioga Siamo amici da buoni Siamo ragazzini Ma non vuoi dire chi sei? Oh mi dici da quanto tu una? Riccata Steve Jobs Ma non era morto Invece se era vivo Chiamava mia moglie spettacolo che ci sono più che ci sono tutti i due trenti. Ci sono i due trenti, i due trenti, e ogni giorno si è più che ci sono più. Non voglio che non lo so, se non lo so. Perché non hai detto nulla? È i figli sui, non lo so, non lo so. Non voglio che non lo so. Non voglio che non lo so. Non voglio che non lo so. E' stato un progetto di plastica e io mi sono un'occo modenina. Per il telefono! Paggla! I've got all my life to live. I've got all my love to live. Eμαστε sίguri, l'abia, eh? C'è che devo dire? C'è che devo dire? Eμαστε figli di bambini, per cui sei sei, l'abia? Quanto tempo c'è questo? Quanto?! C'è che devo dire? C'è che devo dire? C'è che devo dire? Perché devo dire che devo dire? C'è l'una de sangue. La luna se vuelve roja. Dicen que vuelve loca la gente. No necesitamos ningún eclipse para eso. Es una cena, no es un examen, ¿vale? Vosotros los conocéis de siempre y yo soy la nueva. A mí no me aceptan en el grupo. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar o me tengo que ir? ¿Nos gustaría que esta noche pasase algo? ¿Algo diferente? ¿Y si pasa algo mal? Peor que el aburrimiento no hay nada, te lo aseguro. Muchas gracias, cariño. Yo también te quiero. Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue lo leemos y lo escuchamos todos juntos. No tenemos secretos, ¿no? Llenos de la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? No, no. Entonces empieza tú. Ahí va el mío. ¿Ya no hay marcha atrás? Deseo tu cuerpo. Pues empezó a mover. La madre que nos parió. Me jode que después de 20 años descubra que no tenga ni puta idea de quién eres. Tienes algo que decirme. Me tienes que echar una mano. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sì, 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 che subano, per favore. Alla stai. Alla stai. Alla a tutti. Tanti parecchi non saranno pedazos se uno dei due mirare il cellulare del l'altro. Come Ernesto, per esempio. Nunca, jamas, non saranno il cellulare. Niente ha segreti. Que secretos quieres que tengamos, Eva? Pues descubramoslo. Pongamos aquí nuestros celulares. Empezamos bien, eh. Todo lo que llegue, mensajes llamadas WhatsApps, las leemos y escuchamos todos juntos. Contesta. Bueno, ¿quién es? Bueno. Tu madre. Five, four, three, two, go! ¿De quién son todos esos mensajes? Mensaje de Alejandra. Quiero tu cuerpo. Este aparato se ha convertido en la caja negra en nuestras vidas. Necesito ayuda. Flor, esa estupenda. Por una foto, podría llegar a perderla. ¿Nos puedes explicar? Dice que extraña tus besos. ¡Qué puta! Bueno, yo siento que los conozco perfectamente bien a todos. y por otra foto. Società di B, c'è più di B, c'è più di G. C'è più di B, c'è più di G. C'è più di G. C'è più di B, c'è più di G. C'è più di B, c'è più di G. 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 G.